La sessione di questa mattina rappresenta pienamente la sintesi di un percorso e di una azione che deve essere compiuta sul patrimonio edilizio italiano sia in termini di una maggiore risposta ai problemi di risparmio energetico degli edifici che rappresentano in massima misura il consumo energetico mondiale e dall'altra parte di una necessaria messa in sicurezza in termini di statica di questi edifici rispetto ai problemi della pericolosità sismica che colpisce in maniera del tutto particolare il nostro paese rispetto alla quale lo stock edilizio esistente non è in grado di rispondere con efficacia alle sollecitazioni sismiche che avvengono con una purtroppo usuale periodicità. In questo senso l'intervento del governo con l'azione di Casa Italia rappresenta secondo noi una risposta efficace in termini di azione e di volontà politica su entrambi questi fronti. Infatti il ricondurre ad una omogeneità di intervento le azioni di risparmio energetico e di sicurezza antisismica degli edifici può essere fatto agendo sia sulle risorse pubbliche che verranno messe a disposizione appunto del progetto Casa Italia sia attraverso un maggiore coinvolgimento dei cittadini nelle necessarie azioni di finanziamento e realizzazione di questi edifici. Vale la pena ricordare infatti che come ha ricordato anche il presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sono pochissime le persone che pur abitando in zone ad alta pericolosità sismica hanno percezione di questo rischio quindi bisogna agire sulla percezione, aumentare la percezione del rischio, indurre ad un'analisi della rischiosità sismica e indurre poi al successivo intervento possibilmente unendo questo tipo di intervento anche ad un intervento di scala maggiore rispetto a quello che è stato fatto fino ad oggi per quanto riguarda gli interventi di efficienza energetica. Intervenire sull'involucro dell'edificio significa ridurre le dispersioni energetiche degli edifici e unendo questo tipo di intervento anche ad una azione di rinforzo e di adeguamento, miglioramento quantomeno antisismico dell'edificio consentirebbe anche di risparmiare una serie di costi che agendo separatamente potrebbe essere molto maggiore. Inoltre c'è l'assoluta necessità di intervenire sul grande patrimonio pubblico sia in termini di reti infrastrutturali sia in termini di edifici pubblici che hanno bisogno nella loro componente strategica di questi edifici, mi riferisco alle scuole, agli ospedali, alle grandi vie di comunicazione, ai centri di accoglienza post-catastrofi per un loro adeguamento antisismico che non può prescindere da un impegno finanziario dello Stato importante, certamente su un orizzonte pluriannale ma che non può essere in alcun modo posticipato o sottodimensionato rispetto ad altre priorità. Credo che quindi Casa Italia rappresenti un cambiamento di passo, un cambiamento necessario e dobbiamo sostenerne l'attuazione cercando di rendere il più possibile efficace l'azione che è stata introdotta, sia dal punto di vista degli incentivi rinnovati nella recente legge di bilancio, sia chiedendo e sostenendo l'azione del Governo per una maggiore attenzione al finanziamento di interventi pubblici e di carattere pubblico privato per una messa in sicurezza dell'intero stock edilizio nazionale.